C'era anche un po' di Bologna ieri in Vaticano alla presentazione ufficiale dell'enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate. Al tavolo dei relatori anche il professor Stefano Zamagni, ordinario di Economia Politica all'Alma Mater e membro del comitato direttivo dell'Istituto Veritatis Splendor. In qualità di consultore del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, Zamagni ha inquadrato questa enciclica sociale così come la vede un economista. In essa Papa Ratzinger non propone temi anticapitalistici ma auspica una globalizzazione a misura d'uomo. È una riflessione sulle cause profonde, non su quelle prossime della globalizzazione e della crisi. L'idea centrale è che l'economia di mercato deve tornare al suo spirito originario quando cominciò a costituirsi a partire dal XII secolo e cioè la sua finalizzazione al bene comune. Tutti i problemi, tutti i guasti derivano, giustamente dice il Santo Padre, quando il fine dell'agire economico è volto al bene totale, cioè al profitto che diventa fine a se stesso. Il profitto non è affatto da colpevolizzare o da demonizzare ma il profitto appartiene all'ordine dei mezzi, non dei fini. Si deve fare profitto perché con il profitto si perseguono quegli obiettivi di utilità sociale che sono una componente essenziale del bene comune. Quando invece, come è accaduto negli ultimi due secoli, si è perso di vista questa stella polare, questo faro, le degenerazioni, ora nella forma della grande crisi, 60 anni fa la crisi del 29 e in mezzo alle crisi locali e regionali sono inevitabili. Grazie.